A distanza di due settimane dall'inizio, a singhiozzo del servizio di trasporto e assistenza agli studenti disabili della provincia di Messina, nelle zone 1, 3 e 5, è stata adesso aggiudicata la gara anche nella zona 4 del versante ionico. Resta ancora fermo il lotto relativo alla zona 2, quella che comprende i comuni di Barcellona, Termevigliatore, Castro Reale, Patti, San Piero Patti, Brollo, Capodorlando e Naso, in quanto la gara è andata deserta. Un bel sospiro di sollievo per i studenti e le loro famiglie che avevano iniziato l'anno scolastico con l'incubo di rivivere gli stessi problemi dello scorso anno. Il problema è sempre lo stesso, l'ex provincia di Messina non ha le risorse disponibili per garantire il servizio per l'intero anno. Al momento sembra accantonato anche il discorso voucher che richiede tempi più lunghi per l'istituzione di un albo degli enti accreditati. Il servizio di trasporto e assistenza nella zona ionica è stato aggiudicato all'unico ente che ha presentato un'offerta, la Ialite Onlus di Magnace, e partirà il 25 novembre prossimo per una durata di 45 giorni effettivi di frequenza, dopodiché si potrebbe procedere a una proroga o una nuova gara in base alle risorse disponibili.